Martedì, martedì signori miei, che è sinonimo di Champions e seppur PSG Juve non conti una mazza per il proprio allenatore io ovviamente la guarderò, così come il Milan, no? Quando parliamo di questa Coppa che noi ogni anno inseguiamo e in realtà ogni anno poi ci appare come un miraggio, questa è la Champions. Ma a tempo debito, a tempo debito, perché oggi comunque è analisi sulle analisi degli altri, perché ogni tanto qualche approfondimento, seguendo qualche trasmissione sportiva, lo colgo anch'io, anzi, anzi, per esempio un programma sportivo che ho detto più volte che segue la BoboTV, ma anche Supertele, Osandai Knight, stiamo parlando adesso di Dazon, Quando Posso, Sky Club, forse uno di quelli che non riesco mai a seguire è quello su Mediaset, quello non mi piace in realtà, non lo trovo interessante. Ma al di là di quelli che sono i miei gusti personali, che anche in questo caso a voi non interesserà di certo una mazza, andiamo a vedere cosa è immerso, cosa dicono. Nella fattispecie ci sono tre nomi che voglio oggi citare, Cassano, Adani, Capello. Il primo sta diventando fastidioso, ma non per il contenuto, anche per la forma, e io sono uno di quelli che spesso apprezza il contenuto e dico ma la forma sì è un di più, ma l'importante è il contenuto. Adesso sta diventando pesante anche nella forma, anche la forma un minimo va considerata in realtà, va considerata e sta facendo diventare quello che per me è un programma interessantissimo con Adani, che ovviamente che può piacere o non piacere, ma è quello che dà il contenuto, oltre alla forma, Adani dà tutto. Però poi ci sono personaggi di contorno come Ventola e come Bobo che riesco ad apprezzarli, che ci stanno benissimo. Cassano sta diventando fastidioso, sta diventando proprio fastidioso. Vabbè, levando i preamboli vi invito come al solito a lasciare un like, se volete anche contenuti di questo genere, che andiamo a prendere le parole di opinionisti e altro. Quindi, perché no? Iscrivete per seguire i prossimi contenuti e come avevo già detto, oggi è martedì e sapete cosa vi aspetta. E se non potete seguire i miei video, comunque vi conviene almeno scaricare OneFootball, perché vi tiene aggiornati anche sulla Champions League, la notifichina in base alla vostra squadra del cuore, il gol, il risultato, c'è tutto. Poi sulla Serie A abbiamo anche gli Highlights, veramente un'applicazione per chi ama il mondo del calcio interessante, che non può mancare. Il link, a questo punto vi invito a scaricare con il link in descrizione, oppure come vedete qua, il QR Code. È gratuito, per cui vi conviene almeno testarla, vi conviene testarla. Allora, sulla BoboTV, ripeto, ho trovato un Cassano adesso troppo delirante, troppo troppo delirante, al netto del chi può avere anche ragione per l'assunto del discorso. Ma veramente siamo arrivati a della pochezza, io non posso andare, posso seguire una trasmissione dove c'è uno che dice solo parolacce, dove ha il derilio di onnipotenza, dove quello che dice non è approfondito da nessuna argomentazione, nulla, nulla. Cioè Cassano che, andiamo al caso specifico, Bastoni, Cassano che in questo momento ha bollato come, Cassano prende delle posizioni, Cassano ha bollato come giocatore sopravvalutato, che non gli piace, che non dà nulla, Bastoni e porta avanti ormai sempre sta litania. Che ci può stare? Non ti piace? Lo etichetti come sopravvalutato? Ci può anche stare? Non discuto, non discuto. Assolutamente, ognuno ha il proprio pensiero, che è quello che bisogna, ognuno deve avere il proprio pensiero. Fucilatemi. Socialmente, dal punto di vista dei social parlando, fucilatemi. Se un giorno verrò a dirvi, no, non dovete avere il vostro pensiero, dovete averlo, e così può e deve averlo anche Cassano. Che sia chiaro, partiamo da questo concetto. Però nel momento in cui, Bastoni, professionista, ti piace o non ti piace, serio, non ribatti in nessun modo, si trova ad andare sui social e magari lascia qualche like, qualche contenuto, Cassano non può avere l'ardire di dire Bastoni, invece di svegliarsi, di rompere i coglioni a me, e di mettere like o non like, cercasse il modo di svegliarsi e di marcare i centravanti perché sta facendo dei disastri. Lì dietro l'Inter sta concedendo tanto e dal momento che tu concedi a determinati tipi di giocatori delle occasioni importanti, prendi tre gol a partita. Come se adesso l'unica colpa fosse caricata sulle spalle dei Bastoni. L'unico responsabile. Bastoni deve cercare il modo di svegliarsi e di non mettere i like ai follower. Sono andato a citare tutto quello che ho detto. ma Bastoni, Bastoni, cioè abbiamo fatto diventare vittima Cassano del carnefice Bastoni? Cioè veramente? Ma Cassano, Cassano a questo punto davvero. Io spero, spero, spero che Vieri, che forse lì è quello che gestisce la barracca dal punto di vista amministrativo. Adani è quello che ci mette il contenuto. Spero che Vieri gli dica Antò, ti devi dare una regolata. Ti devi dare... Perché diventa fastidioso anche seguire un programma che, ripeto, io adoro. Io adoro la Bobo TV. Ma sta diventando fastidioso seguire ste sceneggiate. Ste sceneggiate che sono delirio puro. Sono delirio puro. Cioè, Bastoni, gli vengono rotte le scatole perennemente da questo soggetto e questo soggetto dice anche che non rompermi le scatole tu a me. Non puoi andare a metto, non metto alcune like. Ma che stai... Cosa? Ma davvero? Ma davvero? Ma poi almeno argomenta del perché. Che è quello che fa Adani. Che gli spiega che se andiamo a vedere nel reparto difensivo dell'Inter quello che sta maggiormente indietro sia dal punto di vista della condizione e della leadership è proprio De Vrij. E ti spiega però il perché. Che tu puoi condividere o meno. Ma ti spiega il perché. Te lo analizza. Te lo fa capire. Te lo imbocca. Nel discorso che è quello che deve legare in qualche modo il reparto di quello che deve dare una marcatura, una copertura preventiva di quello che dirige la linea difensiva. Te lo spiega. Te lo inculca. Ma non è che... Cioè, può piacere o non può piacere. Però, ripeto, se c'è un contenuto capisco tutto ma un minimo, un minimo di forma a questo punto io la esigerei anche da personaggi del genere. E io, ripeto, non sono neanche mai attaccato alla forma sono attaccato al contenuto. Per adesso sta diventando una roba... una roba... una roba insursa. Ecco. Una roba insursa. Andando avanti l'altro argomento che ha fatto tanto discutere come abbiamo anche commentato sul mio canale sono state poi le parole di Allegri e un po' tutti hanno avuto da ridire. Ovviamente c'è Adani che è da sempre che fa una determinata crociata non neghiamolo perché poi nel tempo forse è diventato anche stucchevole. Io che nonostante, ripeto, anche in questo caso Adani è uno di quelli che seguo con maggiore assiduità. Lo seguo veramente con maggiore assiduità perché poi parla di tutte le squadre e ti fornisce alcuni spunti veramente interessanti su Allegri. Nel tempo è stato anche un po' stucchevole però col seno con... no col seno del poi nel tempo bisogna dire che determinate tra virgolette chiamiamole battaglie al ring come vi pare le ha vinte le ha vinte e soprattutto adesso siamo arrivati a un punto che veramente Allegri non risulta più credibile e dove bisogna andare anche a parlare a valutare di quelle che sono le considerazioni di alcuni esperti e di chi magari ha anche allenato quindi magari parto parto da 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 Capello che a Sky Club ha detto la Juve non può giocare in questa maniera Allegri deve fare qualcosa in più non è non il battutista non il battutista con le solite battute deve mettersi rimettersi a lavorare per tirare fuori quel qualcosa in più dalla squadra e tornare a vincere la Juventus va a momenti non si capisce cosa voglia fare se dici che la partita che conta è quella contro il Benfica perché non schieri Vlaovic a Firenze non capisco comunque con tutte le critiche sta ricevendo la Juve è a due punti dal primo posto chissà dove sarebbe se giocasse bene è una squadra ancora da costruire ma anche con i giocatori importanti che fanno la differenza Allegri non ha ancora a disposizione i suoi giocatori tutto vero questa analisi di Capello l'ho veramente apprezzata l'ho apprezzata ancora di più di quella di Adani che ovviamente già conoscevo già le motivazioni di Adani le ha ribadite di volta in volta e già le conoscevo ma questa di Capello l'ho apprezzata ancora di più perché ti fa pesare tutto ti fa pesare tutto parte dal fatto che la Juventus deve fare qualcosa deve lavorare deve fare qualcosa deve provare a fare qualcosa di diverso ti spiega anche dal punto di comunicativo perché Allegri ad oggi non risulta più credibile perché se tu dici che non ti interessa la partita col PSG perché allora veramente non schieri non gli dai neanche 5 minuti 10 a Vlaovic la cosa che fa ancora più tristezza è perché qualcuno non glielo pone sto quesito perché non lo sbugiarda non lo mette dinanzi alla verità e poi chiosa con un altro appunto molto interessante comunque nonostante ciò nonostante veramente sia poco quasi del tutto non godibile vedere una partita della Juventus e comunque parlare della prestazione la Juventus è comunque lì è comunque lì a due punti dal Milan no? e a Parigi con l'Inter è comunque lì è comunque lì e gli mancano dei giocatori e gli mancano dei giocatori te l'ha analizzata a 360 gradi segno che come ho detto io non perché voglio fare quello l'ho detto però per rimarcare di nuovo quello che penso io penso che l'Eventus in un modo o nell'altro gioco o non gioco l'Eventus gli punti li farà lo stesso perché comunque ha una rosa veramente competitiva una rosa ha un instant team come piace chiamare il termine inglese instant team ha un instant team la Juventus giocatori pronti all'uso che devono dare poi bisognerà vedere quanto siano integri Pogba adesso convinto dalla Juventus si opererà lo vedremo il nuovo anno capiremo capiremo un paio di cose Di Maria se non ho se non ho se non ho oh mamma se non ho letto male pare che abbia avuto una ricaduta però al netto di questo l'Eventus ha comunque una rosa superiore alle altre per come la vedo io per come la vedo io ma non la no per come la vedo io anche per quello che dice il campo perché nonostante tutto nonostante non abbia gioco nonostante giochi malissimo nonostante abbia infortunati la Juventus è comunque lì è comunque lì quindi lo dice anche il campo quindi figuriamoci se poco poco ci fosse un'amalgama ci fosse un'idea ci fosse un concetto figuriamoci figuriamoci questo questo va ribadito andando su Adani si può discutere sull'essere belli o vincenti ma non è questione di essere bello o vincente qua va a rispondere proprio nettamente ad Allegri che parla sempre di questo belli o vincenti belli o vincenti che di peggio poi dice Adani c'è solo la dicotomia se non sbaglio giochisti o vincenti giochisti o vincenti se non sbaglio giochisti o vincenti dovrebbe essere che se mi confermate voi stessi dovrebbe essere quel quel paragone quel parallelo che ha dato che ha dato carezza e gli dice che questo gli fa proprio schifo mi fa proprio schifo questa questo questo categorizzare in due in due scissioni no gli fa proprio schifo quindi proprio bordata se non sbaglio a carezza proprio bordata incredibile ma tornando su su Adani su Adani Allegri dice non è non è questione di essere bello o brutto se non riesci neanche a superare la metà campo la Juve ha fatto quattro tiri in cinque secondi tempi che è quello che abbiamo rimarcato anche qui ne ha fatti più la Cremonese a Roma in una sola partita i segnali su Allegri erano chiari fin da tempo i bianconeri hanno tanti calciatori di livello e il problema non sono di certo loro sulla faida ripeto Adani Allegri è inutile approfondire perché è sempre diciamo è una una guerriglia un qualcosa che va avanti di tempo e che ripeto nel tempo poi è diventato anche stucchevole però però credo davvero che bisogna in qualche modo adesso prendere delle parti nette 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 anche che lo facciano un po' tutti nonostante poi tu vai a parlare vai a ascoltare l'intervista di Balotelli e ti dice che uno dei migliori allenatori è proprio Allegri Allegri che sa sa come tirare il meglio da te dal giocatore e ti fa capire che forse nell'ambito gestionale il fatto solo sappia come abbiamo visto e infatti credo anche questa cosa la voglio dire per concludere il discorso credo anche che quello che valeva 5-10 anni fa non può valere oggi per come la vedo io quello che è stato secondo me non può neanche troppo essere cancellato questo mi permetto di dire perché dieci anni fa secondo me Murigno era Murigno dieci anni fa il gioco di Allegri era il gioco di Allegri e non è la stessa cosa oggi perché il calcio come ho detto sempre come ribadiamo cambia da un anno all'altro figuriamoci dopo 5 o 10 cambia muta si evolve cosa che secondo me ripeto non ha fatto Allegri mi viene da dire la stessa roba per Murigno ecco perché sulla Roma io ho sempre un grosso punto interrogativo e e questo è un qualcosa che sento troppo poco sento troppo poco dal punto di vista comunicativo da parte degli opinionisti diciamole ribadiamoci quello che che andava bene 5 anni fa magari non va bene oggi magari non va bene oggi ho sbaglio ve la pongo a voi la domanda fatemi sapere cosa ne pensate voi volete commentate likeati iscrivetevi al canale e noi ci becchiamo in serata un grande abbraccio da ne eschio